Sovrani, principi e governatori che hanno lasciato un segno nella nostra terra dall'antica Grecia al Medioevo. Si intitola Re e Regine in Sicilia, l'ultimo libro di Riccardo Francaviglia presentato all'Istituto Comprensivo Giovanni Verga, diretto da Viviano Aldisio. Attraverso una scorrevole narrazione e il supporto di illustrazioni da lui stesso realizzate, l'autore si è concentrato su particolari aspetti del carattere dei personaggi, umanizzandoli e avvicinandoli ai suoi giovani lettori. I re e le regine della nostra terra sono sicuramente tra i re e le regine più importanti dell'Occidente e questo è anche giusto saperlo, visto che noi viviamo in un territorio che spesso è oggetto di lamentele da parte nostra, questo territorio non va bene, la Sicilia c'è anche questo desiderio di andare oltre, andare lontano, eppure noi nella nostra terra abbiamo avuto, tra i protagonisti della cultura occidentale, coloro che hanno in qualche modo cambiato la cultura occidentale. Ho deciso di trattare soltanto un aspetto di questi personaggi perché altrimenti sarebbe diventato un libro di storia, invece non era questa la mia intenzione, volevo creare un racconto più fluido che approfondisse soltanto certi aspetti della loro vita, ma anche approfondisse l'aspetto più umano, non soltanto come personaggi storici, ma specialmente come persone che si trovavano al centro della storia. I ragazzi vanno stimolati, vanno stimolati alla curiosità, vanno stimolati all'amore nei confronti della lettura, utilizzando anche questi spedienti che sono l'incontro con l'autore, che in questo caso è un autore ma anche è un bravissimo illustratore, motivo per cui i nostri allunni già in classe hanno sviluppato e hanno conosciuto il testo, hanno lavorato sul testo, e oggi direi che è un momento, un epilogo, uno scambio di conoscenze sul testo stesso e quello che sta dietro il testo. L'iniziativa è stata rivolta agli allunni di seconda e terza media, l'evento è stato organizzato in collaborazione con la libreria Mondadori di Gela.